Benvenuti alla puntata di oggi di Stampa Evangelo. Siamo a mercoledì 19 di aprile del 2018 e vi trasmetto da Conegliano dove proprio ieri sera abbiamo presentato il candidato sindaco del popolo della famiglia Lorenzo Damiano alla cittadinanza di Conegliano e anche ai media locali. Saluto i primi a connettersi Danilo Leonardi, Sabino Sabini, Massimiliano Esposito, Lorenzo Casi, Maria Rosa Selvaggio, Fabio Ceseri, Nicolò Marino, Nicolò Fulgenzio Diliberto. Massimiliano Esposito ha prodotto un altro straordinario spot per il popolo della famiglia che tra poco trasmetteremo, anzi lo invito a metterlo su Youtube così cominceremo a farlo girare. Saluto Cristian Corrias, Leonardo De Stefano, Ever Gheno che ieri mi ha conosciuto a Conegliano, lo saluto, Prisca Vegni, Andrea Kona, c'è anche mia moglie Silvia Pardolesi che saluto qui da Conegliano, Marco Ferrigno, Raffaella Frullone, Andrea Ancora, Susanne Demez, Danielina Merlo, Matilde, Angioletti, Prisca Vegni. Allora, mi chiedo un mi piace, un condividi, il Vangelo di oggi è il Vangelo dell'incontro con i discepoli ad Emmaus, la straordinaria, meravigliosa pagina di Vangelo di Cleopa che insieme a un altro discepolo cammina incontrando una persona che sembra essere del tutto distinta dai fatti accaduti a Gerusalemme, che non conosce nulla, ovviamente finge di non conoscere ciò che è accaduto a Gesù, quando Cleopa e l'altro discepolo di Gesù a sera dice resta con noi perché la giornata ormai è in declino, la persona benedice il pane, spezza il pane, in quel momento c'è l'apertura degli occhi dei discepoli di Emmaus che riconoscono il Signore risorto e questa scena anche immortalata in opere e arti straordinarie è una scena arcinota che produce appunto la testimonianza della resurrezione del Signore, si aprono gli occhi al momento in cui spezza il pane dopo averlo benedetto, è bellissima questa immagine della percezione che si ottiene al momento del gesto, una pagina davvero straordinaria del Vangelo mi piace ricordarla insieme all'apertura miracolosamente bella della ricerca al tempo perduto di Proust quando la petite Madeleine assaggiata dal protagonista riapre, fa schiudere lo scrigno dei ricordi nella pagina dei discepoli di Emmaus c'è questo elemento del gesto che può sembrare un gesto banale che invece schiude la percezione della verità, la percezione di chi siamo e davvero quando pensate che quella meravigliosa pagina della Recherche Proustiana è stata scritta 19 secoli dopo questa pagina meravigliosa del Vangelo che è protagonista del Vangelo di oggi davvero capite anche quello che provo spesso a dirvi della bellezza letteraria della scrittura evangelica straordinaria se pensate nella sua modernità per il tempo in cui è stata scritta, davvero ispirata davvero ispirata persino coloro diciamo così che sono distanti da una dimensione di fede non possono non ammettere che la scrittura evangelica ha un straordinario tratto di modernità anche nella costruzione meramente letteraria della lettura della pagina evangelica di oggi dei discepoli di Emmaus e con questo entriamo nella dimensione più diciamo prettamente di attualità della puntata di oggi di stampa e Vangelo Danilo Donardi dice un commento da raffinato critico letterario insomma sembra una zappa caro Danilo ma in realtà un po' di studi che maschero bene diciamo così li ho fatti anch'io in gioventù un saluto a Gloria Gallarelli che ieri era presente e stata la protagonista della nostra iniziativa e giornata a Conegliano saluto Paola Belletti Enrico Marotta Giuseppe Focone Emiliano Velasco Maria Gabriella Melis oggi parliamo di qualcosa che non ci farà contenti ve lo dico subito la giornata si apre con un'incredibile doppietta diciamo così evidentemente non casuale di iniziative che afferiscono inevitabilmente alla Enrico Marotta intanto dice che io ho fatto il liceo classico ahimè no ho fatto il liceo scientifico sono laureato in lettere ma ho fatto il liceo scientifico dicevo una doppietta che non può essere raccontata come doppietta casuale quindi vi chiedo un mi piace un condividi perché quello che stiamo per dire è piuttosto importante e lo sapete voi per primi perché come sempre Stampevangelo vi illumina sulle dinamiche con cui accadono le cose quindi conviene farlo sapere anche fuori di qui e per questo vi chiedo anche oggi un mi piace alla nostra diretta e un condividi sul vostro profilo in maniera che più persone possano venire a conoscenza delle notizie che noi raccontiamo qui durante la nostra trasmissione allora l'1-2 di oggi per forza non casuale perché nessuno potrà raccontarlo come casuale è un'intervista su avvenire a Beppe Grillo in prima pagina con un titolo di quelli di avvenire un po' strano vinco non per strategia questo è il titolo che campeggia in prima pagina su avvenire ripeto a Beppe Grillo e contemporaneamente una pagina intera del Corriere della Sera in cui il direttore di avvenire fa un'apertura di credito colossale al Movimento 5 Stelle addirittura tessendo le lodi di Luigi Di Maio servirebbe il miglior De Luca diciamo così per raccontare chi è Luigi Di Maio invece al direttore di avvenire piace molto ne tesse le lodi tesse le lodi del Movimento 5 Stelle ripeto 1-2 stesso giorno prima pagina di avvenire intervista a Beppe Grillo pagina intera di Corriere della Sera con una intervista a Marco Tarquinio in cui Marco Tarquinio tesse le lodi del Movimento 5 Stelle e addirittura di Luigi Di Maio Gloria Gallarelli dice no e invece purtroppo è quello che succede oggi siccome noi Stampe Vangelo la facciamo anche per fare rassegna stampa la rassegna stampa del mattino si apre con questo segnale come sapete queste cose la Chiesa la conferenza episcopale italiana non le fa mai per caso non le fa mai per caso e allora dovete saperlo perché sapendolo capirete una serie di cose che si muovono all'interno della Sera e che si prepara come dire a dare come al solito sponda ai possibili nuovi potenti è molto triste io il banderolismo l'ho definito così di alcuni uomini di Chiesa non lo capirò mai non riuscirò mai a capirlo il Tarquinio difensore dei principi non negoziabili che oggi tesse le lodi del Movimento 5 Stelle che è a favore del matrimonio egualitario ovviamente matrimonio gay a tre, a quattro del matrimonio interspecie delle adozioni gay dell'eutanasia della droga libera ricordiamo che Virginia Raggi con Giacchetti si mise d'accordo solo sulla liberalizzazione della droga che ha votato il divorzio breve la qualunque diciamo così oggi ci dobbiamo beccare Marco Tarquinio difensore dei principi non negoziabili che dice quanto è bravo Luigi Di Maio e fa intervistare in prima pagina Beppe Grillo Nicolò Marino dice avvenire ha dimenticato il gesto blasfemo dello pseudocomico con l'eguaressia fatta con i grigli essiccati come dice Massimile Esposio si ricordano tutto sanno tutto però sanno anche che potrebbero andare al potere e allora decidono di dare sponda ai 5 stelle Danilo Nonardi con nettezza dice i principi negoziabili i loro signori sono i quattrini purtroppo è vero non più di qualche giorno fa il movimento 5 stelle è stato il movimento che in termini decisivi ha votato la legge sul gender e sull'omofobia in Umbria proposta dal PD senza il voto del movimento 5 stelle non sarebbe mai passata quella legge in Umbria il movimento 5 stelle si è sempre opposto a tutti i provvedimenti del PD tranne che la legge sul gender che permette grazie a quella norma l'ingresso del gender nelle scuole ufficialmente da parte dell'associazionismo lgbt la notizia è di qualche giorno fa l'Umbria è la regione di origine di Marco Tarquinio non riesco davvero a immaginare qualcosa di più vergognoso che non da risponda al movimento 5 stelle proprio in questi giorni dopo che il movimento 5 stelle ha fatto questo tipo di posizionamento politico lo ripeto io trovo incredibile ma non può essere casuale dovete averlo chiaro non è casuale Paul Freeman dice l'incapacità di vedere il buono dove germoglia è talvolta la caratteristica delle istituzioni ecclesiastiche una sorta di paura seminiamo senza credito dice Paul Freeman io non ho nessuna credita lo dico con chiarezza però non posso non segnalare questa incredibile coincidenza che coincidenza non è non si dà una prima pagina a Beppe Grillo su Avvenire e contemporaneamente si dà un'intervista di una pagina intera sul Corriere della Sera se non si vuole dare un segnale estremamente preciso e questo segnale è lo voglio dire vergognoso è una sponda ai possibili potenti e questo non è davvero tollerabile è un banderolismo un opportunismo vergognoso per uomini di chiesa lo voglio dire con grande nettezza anche perché ovviamente non c'è una riga sul fatto che il popolo della famiglia ha presentato la propria candidatura ieri sera a Conegliano che oggi incontra gli amici a Padova che fa la candidatura del sottoscritto a Ventotene su questo non c'è una riga però ci sono le paginate per il Movimento 5 Stelle questo davvero è insopportabile insomma anche dal punto di vista della completezza dell'informazione lo dico da giornalista saluto Ninnarello che dice il DNA del Movimento 5 Stelle è comunista oggi c'è un bellissimo articolo sulla libertà scolastica firmato da Ninnarello sul quotidiano La Croce firmato con uno pseudonimo ma lo riconoscerete vi consiglio la lettura Dudu Di Leo Imma Marzocchi saluto Nicola Di Matteo saluto Maria Pia Di Gironamo questa operazione dovevamo dobbiamo denunciarla per chiedere tra l'altro ad avvenire attenzione all'attività del popolo e la famiglia l'attività del popolo e la famiglia sui principi non negoziabili continua a riempire i teatri ieri sera abbiamo riempito il teatro Toniolo di Conegliano ripeto oggi vado a Padova arriva Don Francesco Morcavallo lo saluto da sacerdote posso dirti che hai pienamente ragione grazie Don Francesco Alberto Zagarella dice il Movimento 5 Stelle nasce con un progetto massonico anche questa è una notazione assolutamente importante Marianna Puzzo dice amici non scoraggiamoci il lavoro del popolo e la famiglia ha un grande valore sta dando già i primi frutti anche se non siamo sui giornali per la vita siamo sui giornali perché la notizia della mia candidatura a Ventotene per esempio ieri è stata ripresa dal Corriere della Sera o che legge da tutti i giornali locali quello che fa tristezza è che usciamo sul Corriere della Sera ma non usciamo su Avvenire che ha deciso la tattica del silenzio contro contro il popolo e la famiglia però dalle paginate di apertura di credito al Movimento 5 Stelle saluto Terenzio Zagis che ieri era protagonista con noi a Conegliano noi ripartiamo dall'Europa della vita proponiamo una cultura della vita abbiamo proposto un nuovo manifesto di Ventotene che faccia partire l'Europa l'Europa che non ci piace quella dei banchieri dei burocrati la faccia invece ripartire dalla cultura della vita cancellando il diritto all'aborto e proponendo il diritto universale a nascere per contrastare anche l'avanzata demografica di chi vuole la cancellazione della nostra civiltà lo ripeto noi abbiamo avuto attenzione ieri sulla proposta del nuovo manifesto di Ventotene sulla mia candidatura sindaco a Ventotene oggi alle nove e mezza faccio un'intervista a Tario Cusano Campus che sicuramente sarà ripresa da tutti i media anzi chi vuole in diretta alle nove e trenta lo condico anche ai nostri coordinamenti editoriali può ascoltare in diretta la mia intervista a Tario Cusano Campus abbiamo avuto quindi una grande attenzione mediatica proprio nelle ultime ventiquattro ore ovviamente l'avvenire invece dà l'apertura a Beppe Grillo e da noi ovviamente ignora completamente il nostro lavoro Angelo De Santi si dice l'Umbria e anche la regione di Monsignor Paglia che di Pannella parlava come della grande anima venuta a mancare e dei milioni di aborti che grazie a lui persistono nemmeno un cenno ragione Angelo De Santi non ci vogliamo scoraggiare vogliamo solo spiegare che far vedere questo simbolo è diventato diciamo così lo vedete sempre più faticoso per certi versi in un ambiente di potere ma rimane invece un grande movimento di orgoglio per il popolo Marco Langellotti dice proprio chi ci dovrebbe promuovere ci ignora e dobbiamo informare noi cittadini li informiamo grazie a Dio devo dire anche il Gazzettino Veneto qui ha dato grande attenzione alla presentazione della candidatura di Lorenzo Damiano del popolo della famiglia ieri c'erano tutti i media veneti a accoglierci saluto Paola Ganza Rudy Nava Arnaldo Maccarini Alberto Zagarella voglio dire con grande attenzione abbiamo stati accolti davvero con affetto anche mediatico come al solito il silenzio è di avvenire spero che vogliate scrivere voi al direttore di avvenire m.tarquinio chiocciola avvenire.it ripeto m.tarquinio chiocciola avvenire.it per segnalare che il popolo della famiglia è impegnato in questa amministrativa in tutto il territorio nazionale che ad oggi non c'è stata una riga di avvenire sul popolo della famiglia mentre invece si è segnalata l'apertura di credito al Movimento 5 Stelle saluto Salvatore Bettina che dice ma è vera la notizia della tua candidatura a Ventotene è assolutamente vera sono candidato sindaco a Ventotene arriverò sarò tre giorni sull'isola dal 23 aprile per presentare la candidatura alla cittadinanza di Ventotene dunque il 23 aprile per coloro che vorranno ci sarà come dire lo sbarco del popolo della famiglia a Ventotene e in tre giorni cercheremo di parlare con i cittadini dell'isola a spiegare il nostro progetto che lo ripetiamo è in continuità con l'attività svolta dal commissario prefettizio il commissario prefettizio è una donna a Ventotene a Ventotene è stato sciolto il consiglio comunale ebbene questa donna coraggiosamente ha varato un primo abbozzo di reddito di maternità 160 euro per 36 mesi alle mamme di Ventotene e proprio per questo cerchiamo ora di partire da questo dato importante per triplicare in termini di importo e raddoppiare in termini di durata il reddito di maternità facendo di Ventotene un laboratorio politico in cui si possano provare le ricette proposte dal popolo e dalla famiglia dunque 72 mesi e 500 euro di reddito di maternità vogliamo sperimentare questo e soprattutto vogliamo fare di Ventotene luogo simbolico per l'Europa un luogo dove scriviamo il nuovo manifesto di Ventotene basato sulla cultura della vita contro la cultura necrofila dell'aborto e dell'eutanasia che sembra essere fondante per l'Europa dei banchieri e dei burocrati noi vogliamo ricominciare riscrivere un manifesto di Ventotene che fondi sulla nuova Europa della cultura della vita della cultura dell'amore della demografia dei figli e della natalità una nuova possibilità per l'Europa lo dirò oggi all'intervista che alle 9.30 darò a Radio Cusano Campus dal 23 al 25 aprile sarò a Ventotene a presentare queste iniziative alla cittadinanza di Ventotene sono in questo momento a Conegliano per dove abbiamo appena presentato il candidato sindaco del popolo della famiglia a Conegliano mi sto spostando a Padova dove realizzeremo anche lì un'operazione politica del popolo della famiglia a Conegliano si beve prosecco ad Avola si beve il nero d'Avola eppure a 1500 km da qui nel cuore della Sicilia anche lì ad Avola c'è il popolo della famiglia pronto a correre alle prossime amministrative dunque capite che lo sforzo che stiamo producendo è enorme dal prosecco al nero d'Avola dalla provincia veneta a quella siciliana l'Italia attraversata da questa pentata di novità straordinaria che si chiama popolo della famiglia saluto Silvia che con Massimo da Pesaro è qui presente alla diretta Leonardo De Stefano dice il vento cambierà da ventotene date un mi piace e un condividi a questa diretta facciamo sapere a tutti quello che stiamo facendo come popolo della famiglia visto che il quotidiano avvenire è invece deciso che la famiglia deve essere abbandonata a se stessa e bisogna votare Movimento 5 Stelle con le interviste a Grillo in prima pagina su Avvenire di Oggi e la paginata intera di intervista a Marco Tarquino sul Corriere della Sera di Oggi scrivete a m.tarquino chiocciola avvenire.it e chiedete perché non parli mai del popolo della famiglia e dà invece tutto questo spazio al Movimento 5 Stelle il popolo della famiglia è impegnato in tutto il territorio nazionale a difendere i principi non negoziabili e tu dai spazio e forza a quelli che sono platealmente contro i principi non negoziabili che con le leggi hanno fatto entrare il gender il matrimonio qualitario e vorrebbero far entrare l'eutanasia le detrazioni gay tutto l'inaffitto nell'ordinamento giuridico italiano chiedete a Marco Tarquino direttore di Avvenire m.tarquino chiocciola avvenire.it perché non parla mai del popolo della famiglia e invece ha deciso oggi di dare questa apertura di credito così incredibile al Movimento 5 Stelle con la prima pagina dedicata all'intervista a Beppe Grillo e l'intervista data dallo stesso Marco Tarquino in cui tesse le loti di Luigi Di Maio voglio dire ma veramente ce ne vuole sul Corriere della Sera appunto una paginata intera di intervista al direttore di Avvenire e come sapete l'intervista non ne dà mai quindi se la dà è per dare un messaggio politico molto preciso saluto Matteo Fantuzza Angelica Bosio che promette che scriverà a m.tarquino Corcio avvenire.it saluto Anna Esaurita Eccelli saluto Paola Ganz che dice bellissimo riscrivere il manifesto di Ventotene partendo dal diritto a nascere bello vero non è uno slogan è la verità esattamente Paola quello che noi cerchiamo di fare è non fare slogan non fare verità quindi accompagnare a un approccio ideale come quello appunto della proclamazione del diritto universale a nascere anche un approccio concreto politico di organizzazione delle risorse partendo da un bel gesto fatto dal commissario prefettizio di Ventotene che ha inventato un primo abbozzo di reddito di maternità proprio sull'isola dove noi ci andiamo a candidare per ottenerne democraticamente il governo anche Paul Freeman ha appena inviato una lettera al direttore di Avvenire M.tarquino chioccio avvenire.it non parli mai mai una riga sul popolo e la famiglia e invece ci mettiamo a dare sponde a testa e le loti del Movimento 5 Stelle che è contro la famiglia e i principi non negoziabili e oltretutto è contro la Chiesa ora vi chiedo davvero di fare questo lavoro M.tarquino chioccio avvenire.it segnalate che l'assenza di notizie sull'attività del popolo e la famiglia è un'assenza di notizie e almeno giornalisticamente è una grave omissione da parte del direttore di Avvenire anche Antonella Magno promette di scrivere Leonardo De Stefano dice in Italia si va sempre dietro a chi vende chiacchiere e mai dietro a chi fa fatti concreti Di Maio sa vendere molte chiacchiere eh già mentre Enrico Marotta si rifugia nel latino dice Nemo profeta in patria Mario però non posso non segnalare questa ondata di opportunismo che travolge questo segmento della conferenza episcopale italiana rappresentato inevitabilmente di Avvenire non posso non far vedere questo simbolo il nostro simbolo che porto sempre addosso come tutti i militanti del popolo e della famiglia dire questo è il simbolo che bisogna votare alle amministrative il simbolo del popolo e della famiglia non certo un simbolo contro la famiglia qual è il movimento 5 stelle ehm Mariella Diotallevi ehm parla di ehm setta massonica del movimento 5 stelle Danilo Bassan promette che scriverà subito a Tarquinio m.tarquinio chioccio avvenire.it chiedete che dia attenzione all'attività quotidiana del popolo e della famiglia su tutto il territorio nazionale impegnato nelle elezioni amministrative e magari togliendo quel tre righe dall'attenzione opportunistica che c'è in questo momento nei confronti del movimento 5 stelle ehm Antonello Di Nunno dice potrebbe essere soltanto per un semplice pluralismo dell'informazione Antonello ricordati se c'è una prima pagina con l'intervista a Beppe Grillo e contemporaneamente una paginata di intervista di apertura a Luigi Di Maio questa cosa non può essere casuale perché nella logica di avvenire ci ho lavorato un po' di anni queste cose non possono essere casuali assolutamente non possono essere casuali ehm Terenzio Zagis sottolinea alcune cose che abbiamo detto a Conegliano tra cui la necessità di dare visibilità alla figura più importante che la donna pilastro portante della famiglia immagine di Maria assolutamente fondamentale questo lavoro Luciano Signorile ci saluta saluto Federico D'Angeli Danilo Lanardi vede sullo sfondo le grandi manovre per la nomina dei prossimi vertici della conferenza episcopale italiana e non solo le nomine che devono arrivare per il vicario a Roma per il nuovo arcivescovo di Milano ce ne sono di cose in forno inevitabilmente si stanno riposizionando vescovi e giornalisti come dice Danilo Lanardi esattamente così saluto Eugenia Cruceru che dice buongiorno Mario complimenti vada avanti Dio ci benedica Mario Cambuli dice forse Tarquinio e certi vescovi saranno più sensibili ai principi non negoziabili quando vedranno il calo dell'otto per mille Leonardo De Stefano riconosce nulla è casuale su questa stampa di potere tutto è perfettamente calcolato ma lo ripeto non può essere una coincidenza quella che segnaliamo oggi la diretta di Stampe Evangelio è di oggi 19 aprile e oggi prima pagina di avvenire con intervista a Beppe Chillo non c'era mai stata un'intervista a Marco D'Arquillo di una pagina in cui tesse le lodi di Luigi Di Maio non era mai accaduto se queste due cose avvengono in contemporanea evidentemente è perché si vuole dare un segnale molto preciso con un rumore diciamo inusitato persino per il mondo del movimento ecclesiale italiano della conferenza episcopale italiana saluto Maria Verita a Boddi con cui ci dovremo incontrare alle 9 e 3 quarti qui a Conegliano per avviare la missione verso Padova saluto Carla Stefanini saluto Irene Stagliano saluto Antonio Cecere che dice complimenti per il passaggio del turno oggi signori c'era Juventus stasera se passiamo facciamo tutti i festeggiamenti se per caso venissimo eliminati non venitevi sotto perché non sarà una giornata piacevole una serata piacevole comunque non veniamo eliminati forza Juve siamo fortissimi andiamo a vincere a Barcellona andiamo a vincere a Barcellona Rosa e l'onora agli esposti ciao Mario purtroppo tante volte ho avuto modo di barchettare avvenire che pena però ripeto la censura sull'attività del popolo e della famiglia è davvero intollerabile quindi chiedete chiedete a avvenire m.tarquini di avere un minimo di attenzione per le attività del popolo e della famiglia come per esempio i giornali locali a Salerno anche il mattino di Napoli hanno dato spazio al pdf al popolo e la famiglia con l'attività di Raffaele ad Inolfi saluto Donatella all'OTA chissà quanti cattolici saranno confusi e potranno 5 stelle esatto questo è il problema saluto Rosanna Grossi da Udine un abbraccio saluto Sara Gazzoni Luciano Collotto che ci saluta da Prato saluto Faustino Cogliandro Fabio Ceseri dice si la censura è intollerabile scrivo a Tarquinio benissimo questa è una cosa molto utile Barbara Purignani dice questo è il segno inequivocabile semmai ce ne fosse stato bisogno che il Movimento 5 Stelle è invotabile brava Barbara mi sembra una riflessione giusta Virgilio Vazzari dice bisogna andare avanti e seguire cosa detta il cuore e l'insegnamento della natura e della nostra fede e non ascoltare o seguire chi per ambizioni personali mette i piedi in due scarpe esattamente Virgilio saluto Anna Ciappa che conia l'espressione Tarquinio il superbo saluto Massimo De Tommaso saluto Alberto Cerutti il nostro grande candidato sindaco a Borgo Manero Alberto mi raccomando sono i giorni decisivi noi ieri abbiamo raccolto decine di firme per la presentazione della candidatura di Lorenzo Damiano a sindaco di Conegliano ora è anche il momento di firmare a Borgo Manero per la presentazione della candidatura di Alberto Cerutti a sindaco di Borgo Manero devono essere raccolte almeno 175 firme diamoci da fare anche a Borgo Manero altro luogo simbolo dell'impegno del popolo della famiglia sul territorio nazionale in tutto il territorio nazionale dalla terra del prosecco di Conegliano dove sto trasmettendo a Avola dove si fa il nero d'Avola e anche lì c'è la bandiera del popolo della famiglia che sventola fino alle terre piemontesi terre di Barolo e di altri vini straordinari dove si può sostenere il candidato sindaco Alberto Cerutti a Borgo Manero i nostri amici ad Alessandria ad Asti ecco Alberto che ci annuncia che sabato si parte con la raccolta firme benissimo e noi siamo davvero vicini allo sforzo di Alberto che è un grandissimo dirigente del popolo della famiglia della prima ora che ora si va a misurare personalmente con il consenso su un territorio importante come quello di Borgo Manero che lo ricordo nella provincia di Novara è il comune con il massimo numero di abitanti che va al voto quindi è molto importante ottenere questo risultato Silvia dice il segnale molto preciso dovrebbe far suonare tutte le campanelle d'allarme al popolo cattolico ci sono accordi sotto che sicuramente non stanno dalla parte dei valori per noi insindacabili e giustamente questa sottolineatura mi pare più che importante Marco dice da quest'anno non darò più il mio 8x1000 a questa chiesa filo islamica e filo massonica e glielo farò sapere in viandola cei una esaustiva lettera raccomandata con le mie motivazioni il quotidiano il foglio mi ha chiesto se avrei firmato per l'8x1000 io ho ribadito che ho firmato per l'8x1000 firmerò per l'8x1000 nonostante le grandi i rimproveri che faccio che come vedete non cancello dalla dimensione pubblica dell'impegno del popolo della famiglia massimile esposito i cattolici con questo appoggio velato a Di Maio passano dai 30 denari alle 5 stelle al peggio non c'è mai fine ripeto quello che è avvenuto oggi non è casuale è gravissimo è il segno di un passaggio di campo e di un opportunismo sconsiderato noi chiediamo almeno pari attenzione all'attività che il popolo della famiglia sta svolgendo su tutto il territorio nazionale per lavorare a una crescita della difesa dei principi non negoziabili Marco Gallerani dice ricordatevi che a ritenersi gli unici custodi del cattolicesimo sociale è molto pericoloso oltre che ridicolo gli unici custodi no però noi ci battiamo esplicitamente Marco per queste cose lo diciamo in ogni convegno è al fondo nel nostro programma politico al di là di tutto non si può certo dire che il Movimento 5 Stelle sia un custode del cattolicesimo sociale il Movimento 5 Stelle è platealmente ostile ai principi non negoziabili e di fatto anche alla Chiesa fare un'apertura di credito al Movimento 5 Stelle significa solo illudersi che dando questa piccola sponda si eviteranno guai peggiori quando mai il Movimento 5 Stelle dovesse andare al governo come dice bene Gasperina ha analizzato la CIE si prepara a salire sul carro del vincitore e questo è davvero triste questo è davvero molto triste avvenire e le interviste a Tarquini oggi su Quella della Sera rappresentano qualcosa di grave dal punto di vista dell'opportunismo del banderolismo della tristezza insomma dal punto di vista dell'attenzione che bisognerebbe dare poi all'attività di tutti vedo Massimiano Amato dico io ma Gianfranco Amato riempi i teati in tutta Italia segreta nazionale del popolo della famiglia possibile non ci sia mai una riga su avvenire e ora va bene la prima pagina ma insomma è davvero grave sabato mattina ci sarà una conferenza stampa Raffaella Di Nolfi faremo una conferenza stampa per la candidatura del popolo la famiglia le candidature del popolo la famiglia in un in campagna partire da Nocera e dunque saremo presenti anche in campagna in maniera importante a queste amministrative alle 11 facciamo conferenza stampa a Nocera Danilo intanto ha scritto a Marco Tarquinio saluto anche Silvia Suardi abbiamo bisogno di maggiore visibilità chiedi a Buffondi di non stare il simbolo del popolo della famiglia ecco magari devo dire ieri la candidatura a Ventotene che abbiamo annunciato ha avuto massima attenzione lo ripeto il giornale il Corriere della Sera tutti i qualitati locali tra Latina Oggi Latina Today il Faro hanno dato notizia della candidatura del popolo della famiglia quello che intristisce è non vederlo su avvenire ecco perché la notizia è sicuramente passata su tutti i media ordinari e tradizionali diciamo così avvenire però ha ritenuto di dover ignorare questa notizia e ci dispiace davvero oggi è il compleanno di Nicola Di Matteo ce lo ricorda Raffaele Adinolfi ce lo ricorda Massimiliano Esposito e dunque tanti auguri a Nicola saluto Gabriella Maiglia saluto Enrico Marotta saluto Stefano Aurelio saluto Giovanni Mazzotta Simone Dossola dice così fai pena non so che cosa forse perché indosso il simbolo del popolo della famiglia non ti piace vedere questo nostro simbolo scherzo votate il popolo della famiglia fate il lavoro straordinario che serve per rafforzare il popolo della famiglia saluto anche Manuela Bongiluppi e fargli auguri a Nicola Di Matteo saluto Francesca Patuzzi bellissima Francesca che dà le offerte direttamente nelle mani dei missionari saluto Gianni Aversano dice mi dirite dove sta scritto che la cei sposa i grillini ma i giornali leggete intervistare un personaggio vuol dire condividerlo se entri in dialogo con uno vuol dire ti abbassi i calzoni ripeto Gianni se uno fa la prima pagina a Beppe Rillo mai data la prima pagina a Beppe Rillo e contemporaneamente va sul Corriere della Sera e fa una paginata di intervista a Marco Tarquinio che non dà mai interviste e la dà per dire quanto è bravo Di Maio questa è non un tentativo di dialogo è semplicemente quello che si chiama apertura di credito per dare sponda e prepararsi ai possibili nuovi potenti sono atti diciamo con grande chiarezza compiuti fino alla spudoratezza diciamo così fatti davvero troppo rilevanti e ripeto nel frattempo neanche una riga sull'attività quotidiana del popolo della famiglia in giro per l'Italia con Nicola Di Matteo che ha lavorato in Sicilia con Mirko De Gatti con il segreto nazionale Gianfranco Amato che è riempito in tutta Italia io stesso ieri ho riempito il teatro toniolo di Conegliano adesso sto andando a Padova e la notizia della candidatura a Ventotene e niente per noi non c'è nessuna attenzione neanche mezza riga però nel frattempo si fa quel lavoro appunto a sostegno del Movimento 5 Stelle intanto è arrivata anche Francesca Centofanti Gasperina Anna Ligiato Melania Simoni Anna Russo Roberto Bruno tutti a fare gli auguri a Nicola Di Matteo per il suo compleanno Stefano Cardini dice Grande Mario la tua lettura degli eventi è sempre puntuale e precisa e soprattutto nella verità noi dobbiamo leggere quello che accade se leggiamo quello che accade capiamo le dinamiche capendo le dinamiche abbiamo un elemento di informazione in più che ci aiuta a svolgere il nostro lavoro quotidiano sul territorio per questo facciamo Stampe Vangelo tutti i giorni saluto Silvestro Vultaggio che ci scrive dalla Svizzera saluto Anna Ciappa che dice in tempi non sospetti abbiamo fatto a meno dei Vescovi Pilota continuiamo così d'altronde dice bene Anna Ciappa il family day è nato senza Vescovi Pilota e andiamo avanti senza Vescovi Pilota per il progetto del popolo della famiglia saluto Francesca Centofanti che ha finito ora gli accompagnamenti dei figli e dunque a qualche minuto anche per ascoltare Stampe Vangelo in questa puntata così importante ricordo di fare un mi piace e un condividi alla diretta Pietro Fanara dice abbiamo bisogno di parloci con la tonaca di quelli che stanno in prima linea per fortuna di quelli ce ne sono tanti che sostengono il popolo della famiglia ed è bello andare in giro e incontrare tanti sacerdoti che ci danno il sostegno molto spesso stanno sul palco accanto a me mentre parlo quindi è un lavoro importante quello che tanti sacerdoti stanno facendo al fianco del popolo della famiglia in questa battaglia politica così complessa ed eccolo Carrato Salonia del nostro PDF di Avola che arriva dal turno di notte e già sta collegato in diretta vai a riposare caro Corrado grazie del sostegno della forza che stiamo avendo ad Avola per le prossime amministrative con il popolo della famiglia saluto Adriana Bonino saluto Nicola Fulgenzio Di Liberto e tutti coloro che stanno facendo gli auguri a Nicola Di Matteo per il suo compleanno intanto noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Stampevangelo vi chiedo ancora un mi piace e un condividi a questa diretta affinché possa giungere all'attenzione di più persone possibili una diretta con una capita importante se volete se avete tempo alle 9.30 faccio un collegamento in diretta un'intervista con Radio Cusano Campus poi sarà opera nel nostro coordinamento ideoriale per chi non riesce a seguirci in diretta a far avere il link all'audio dell'intervista in cui cercherò di parlare ancora una volta della candidatura del popolo della famiglia in tutta Italia delle nostre presenze e anche della candidatura mia personale a Ventotene con la novità credo importante di un manifesto politico per una nuova Europa che parta dalla cultura della vita e combatta l'Europa necrofila l'Europa necrofila della cultura della morte e dell'eutanasia e dell'aborto in mano ai burocrati e ai banchieri Corrado punta ad avere due consiglieri e magari un assessorato per il popolo e la famiglia benissimo ad Avola questo mi pare molto importante come fare per arrivare a essere determinanti sulla società per aiutare la famiglia chiede Pierpaolo di Renzo facile facendo come fa Corrado candidandosi nel suo comune cercando di avere più consenso possibile magari ottenendo l'assessore della famiglia attraverso questo meccanismo di governo far arrivare sostegno sia culturale che concreto alla famiglia in Italia questo è quello che il popolo della famiglia si propone di fare in tutto il territorio italiano presenta liste organizza consenso cerca di incidere sul governo materiale e anche morale di questo nostro paese questo è quello che bisogna fare caro Pierpaolo di Rienzo sostanzialmente bisogna essere cittadini e militanti del popolo della famiglia ricordo che ci si può tesserare al popolo della famiglia si dà un sostegno così al nostro movimento è uscito un articolo pochi giorni fa che contiene lo statuto e le modalità di tesseramento per il popolo della famiglia è uscito sulla croce quindi possiamo tranquillamente utilizzare quell'articolo per tutte le informazioni pratiche al riguardo per tesserarsi al popolo della famiglia intanto Corrado ci informa che in un mese da niente sono conosciuti in tutto il paese di Avola esattamente il meccanismo che bisogna adottare presentare la lista organizzarsi farsi conoscere e in un mese già andiamo in condizioni non solo di presentarci ma anche di essere elementi importanti di un possibile governo del comune quindi come capite questa è l'attività che dobbiamo svolgere saluto fratello Antonio Iannacone che oggi troverà anche l'articolo di Marcello Protto sul quotidiano La Croce ricordo che il nostro quotidiano che tutti i giorni fa elaborazione politica e dà le informazioni e anche diciamo così le munizioni culturali per la nostra battaglia appunto il quotidiano La Croce www.lacrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora per abbonarsi alle versioni digitali e avere la lettura del quotidiano della Croce tutti i giorni al costo di mezzo caffè insomma per sostenere l'attività che svolgiamo Gasperina chiede se si può dare il 5 per 1000 al pdf non ancora purtroppo dobbiamo prima essere riconosciuti come forza politica dal Parlamento quando questo riconoscimento avverrà potremo avere anche la donazione del 2 per 1000 in realtà perché siamo un movimento politico al movimento che rappresentiamo Luigi Michele se avventotenne mi candido come coalizione no mi candido come popolo della famiglia saluto anche Sisti Urso dice di chi ci si può affidare del popolo della famiglia lo dico a Sisti Urso perché noi siamo sicuramente lì presente presenti c'è Alex Zino eccolo qui l'ho visto ieri bellissimo a Conegliano grazie per essere arrivato dopo 10 ore di macchina grandissimo Alex Corrado ha fatto il circolo e fatto partire il tesseramento per aiutare le famiglie a risparmiare ha associato 25 negozi sono arrivati a 70 famiglie questa è l'attività svolta ad Avola lo ricordo un territorio dove saremo presenti alle prossime amministrative la Francesca Centofranti intanto ha pubblicato l'articolo che contiene sia le istruzioni per presentarsi alle amministrative che lo statuto del pdf che la modalità per tesserarsi al popolo della famiglia con quel link se fate un click sul link appena pubblicato da Francesca Centofranti potete procedere poi al tesseramento al popolo della famiglia diventare uno di noi diciamo così un militante a tutti gli effetti del popolo della famiglia ricordandosi poi che i candidati a Camera Senato e amministrative sono tutti e devono essere inevitabilmente iscritti al popolo della famiglia per poterlo rappresentare nelle sedi istituzionali ringrazio davvero tutti coloro che hanno partecipato a questa diretta ancora un mi piace un condividi se volete per far sapere le cose credo importanti che abbiamo detto oggi qui da Conegliano domani se ci riesci la diretta la facciamo di nuovo da Roma prima di partire per una conferenza stampa sabato a Salerno anzi a Nocera per la presentazione delle liste in Campania poi domenica lo sbarco a Ventotene dove per tre giorni parleremo con la cittadinanza locale e illustrieremo il nostro progetto per l'isola di Ventotene per un nuovo manifesto per l'Europa che da Ventotene come popolo la famiglia irradieremo in tutta Italia dicendo no alla cultura della morte proclamando il diritto universale a nascere come il diritto fondamentale della nuova Europa saluto dunque tutti gli amici saluto anche Federico Pinotti che dice che matrimonio qualitario matrimonio a tre a quattro interspecie sono qualcosa che sono il sogno della maggioranza degli italiani e rimangono scandaloso solo per me i seguaci della mia setta mi sa che è un po' al contrario per il popolo italiano è intollerabile quello che tu ritieni essere il sogno che non è sogno nessuno è solamente un incubo saluto Frank Costa saluto Anna Russo che dice l'avvenire siamo noi vi invito di nuovo a scrivere m.tarquigno ghiocciola avvenire.it e dire perché non scrivi mai una riga sull'attività quotidiana del popolo e della famiglia per le prossime elezioni amministrative e invece avete fatto questa vergognosa svendita per 15 denari al Movimento 5 Stelle ecco chiedete conto chiedete conto di questo scandaloso comportamento al direttore di avvenire all'opportunismo e alla banderuola di questo segmento un po' triste della conferenza episcopale italiana saluto Paolo Pasanisi saluto Giuseppe Annicchino e avanti popolo siamo una forza dice la bellissima Francesca Patuzzi tutti insieme un mi piace un condivido alla diretta di oggi se volete alle 9.30 ci sentiamo a Radio Cusano Campus per la diretta da Radio Cusano 9.30 intervista in diretta dopodiché domani di nuovo Stampevangelo con tutti i programmi del Popola Famiglia TV che come sempre potete trovare intorno al palinsesto pubblicato dalla nostra pagina Maria Verita è arrivata spero non qui sotto perché io mi devo ancora sistemare lavare fare tutto prima di scendere alle 9.30 devo fare l'intervista a Radio Cusano Campus dopodiché dopo l'intervista arriverò anche io cara Maria Verita La Croce oggi il giornale dei Cattolici dice Piero Fanara esattamente così scrivete chiunque voglia scrivere sulla Croce è ben accetto spazio per tutti e soprattutto abbonatevi sostenete La Croce perché è il quotidiano dove passano le nostre idee l'intervista il numero di oggi è particolarmente rilevante per chi è interessato al tema della libertà scolastica intanto Barbara Purignani ha pubblicato l'indirizzo mail di Tarquinio m.tarquinio chiocciola avvenire.it ecco Anna Russo chiedeva l'indirizzo ed è questa m.tarquinio chiocciola avvenire.it saluto Andrea La Rosa che va a messa mentre Maria Verita va a fare colazione aspettando io purtroppo ripeto devo sistemarmi un attimo mi sono proprio lanciato immediatamente a fare stampa e vangelo poi devo fare questa intervista a Radio Cusano e poi arriverò per la nostra missione su Padova perché oggi 19 da Conegliano da dove vi saluto ci spostiamo a Padova sempre per rafforzare la presenza del popolo della famiglia sul territorio nazionale alle prossime elezioni amministrative è arrivato anche Massimo Dalpasso è arrivato Carlo Cusso è arrivato è arrivata Isa Villanti saluto tutti voi un abbraccio noi ci ritroviamo domani con stampa e vangelo sempre alla stessa ora e come dice Don Francesco Morcavallo dacci una benedizione forza Juve dai Don Francesco forza Juve stasera speriamo di vincere bene al Camp Nou non voglio neanche stare lì a avere paura voglio vincere al Camp Nou così domani in mattinata festeggiamo la Juventus nei top 4 d'Europa e ci diamo un elemento di gioia siamo il sale della terra dice Corrado ed è così un abbraccio a tutto il popolo e la famiglia da Maria Di Norfi buona giornata a tutti ci ritroviamo domani speriamo con la Juventus semifinalista di Champions saluto così anche Esther Corona e tutti gli amici che sono appena arrivati qui alla diretta tra cui Bobak Falamachi che dice forza Mario forza Juve e come dice Melania Simoni forza Juve forever un abbraccio a tutti ci ritroviamo domani divertiamoci anche stasera in questa bella giornata di sport saluto anche Maria Pia di Girolamo Antonio Saccone e tutti gli amici che si sono connessi ora un mi piace un condividi fate vedere questa puntata a più persone possibili un saluto da Maria Di Norfi grazie a tutti